Allora, era un pochino di tempo che il buon Romeo non passava da queste parti e quindi mi sembrava doveroso invitarlo. Ciao Rome, come stai? Ciao Luca, buona domenica a tutti. Bene, bene, sono discretamente carico per l'impegno odierno, però a me piace tanto parlare di calcio giocato. Allora, Rome è bravo perché io gli ho detto, Rome questo esce domenica mattina e lui sta già facendo, vedi, è già entrato nel mood, però lo diciamo tranquillamente, lo registriamo il giorno prima per il giorno dopo, quindi magari... Perché io ragiono come quando scrivevo all'inizio per i settimanali, sul giorno successivo, che tu devi sempre ricordarti che poi facevi leva sul giorno dopo. No, certo, però qua può cambiare tutto da un momento all'altro, quindi magari tu mi tweeti stanotte alle tre di notte che hai la formazione e poi quello che diciamo oggi è da cestinare, però è giusto anche un po' immaginarsi la partita, secondo me, a priori. C'è ragione, comunque nessuno non cambia, buona domenica a tutti. Buona domenica a tutti, sì, col caffè lì. Allora, ovviamente vi lascio anche i tag di Romeo, il suo canale che sta andando fortissimo. Tra l'altro, Rome, prima di iniziare ti faccio... L'altro giorno ero con un ragazzo qui del mio paese e mi fa, ma perché non pubblichi video la mattina come Romeo? Che io mi guardo i suoi e i tuoi me li devo guardare a mezzogiorno? E tu, beh, vedi, ognuno ha un'era di pubblicazione, riempiamo lui le colazioni, io il pranzo. Devo dire che poi sono stato anche martellato da chi mi circonda per fare anche delle levatacce alle volte per registrare presto la mattina ed è diventata una splendida abitudine perché mi sveglio, cioè perché poi mi godo la mattinata, però ognuno poi giustamente ha le sue pubblicazioni. Mi fa piacere quando la gente mi dice prendo il caffè con il tuo video, ma poi io guardo per esempio i tuoi molte volte in pausa pranzo, no? Ah, vedi, ognuno ha il suo rare di pubblicazione. Allora, Rome, dato che anche nel video di stamattina dicevi una cosa siccome è sacrosanta e cioè a me piace parlare di calcio e quello che c'è dietro, io lo lascerei stare per il momento perché ne io ne te comunque siamo nemmeno interessati in prima battuta e forse nemmeno informati nel migliore dei modi, quindi ti faccio le domande proprio a livello di, dato che parlavi di Tridente, hai fatto una domanda da Allegri sul Tridente, ti chiedo Come Marzullo ha fatto, Luca, ha fatto come Marzullo, faccia la domanda e si dà una risposta da solo. No, però a me è sembrato poco preparato in quella domanda, in tutte le altre sai, aveva la risposta pronta, in quella lì è un po' sbiascicato, ha fatto frasi fatte, quindi? Ma sono molto curioso di vedere quale sarà la scelta finale perché dalle mie umilissime fonti posso dire che all'antivigilia è stato provato questa sorta di 3-4-2-1, quindi cosa significa? I tre brasiliani dietro, ovviamente Portascesni, se così fosse Fagioli fuori perché a centrocampo giocherebbero Quadrado, Locatelli, Rabiot e Kostic e poi ha provato, ha sperimentato Di Maria Chiesa alle spalle di Vlaovic, che è un assetto molto offensivo, che a me intriga tanto perché può andare in ampiezza, può andare di qualità, hai assist, hai gol. Poi sai, molte volte quello che provi, soprattutto con Allegri in alcuni giorni gara, magari il mister si sveglia e la notte porta consiglio. Gioca di scelto avanti nei tre. Quindi sono curioso, sono curioso perché è sicuramente qualcosa che ha provato e se ha provato questa soluzione è perché considera che magari anche a livello di caratteristiche potrebbe mandare un po' in tilt la stessa Fiorentina. Però mi hai già bruciato la domanda successiva, perché quindi si parla comunque di difesa tre, si vuole mantenere l'identità dei tre dietro. Questa è stata la prova che mi risulta, poi onestamente non ti so dire che se abbia provato a fare anche una sorta di 4-3-3 un po' più puro, ma a me è stato proprio detto 3-4-2-1. Allora, intanto parlavi di Fagioli sacrificato e tra virgolette me l'aspettavo per via di un momento a questo punto in cui abbiamo pochi centrocampisti, perché l'infortunio di Miri diretti, Pogba che è poi un tema che affronteremo, Paredes che di rientro ma non ha un'autonomia. Paredes si rientra, perché non l'ha citato Paredes. Paredes si rientra, si è allenato anche bene, mi hanno detto in settimana, però sai, un giocatore che al momento rappresenta un grosso punto interrogativo. Ma guarda, te la metto breve, secondo me il balottaggio è esclusivamente tra Fagioli e Chiesa, cioè se giochi 3-5-1-1, gioca a Fagioli, se gioca a Chiesa va fuori Fagioli. Ma sai, ma a me Fagioli piacerebbe vederlo anche tra l'altro proprio nella posizione che dovrebbe prendere Chiesa, perché comunque Fagioli mi sembra uno che si butta anche dentro sulla tre quarti, può dare, quindi non lo so, mi sembra che uno in meno centrocampo e due dietro una punta possa essere comunque uno sviluppo naturale per questa Juve qua. E secondo te, più che altro, questa volontà di provare è data da la partita con la Fiorentina, la partita di Europa League che si avvicina, o il momento con i rientri meno centrocampisti più attaccanti, qual è secondo te la chiave? Guarda, io mi sono fatto una doppia idea. La prima è che devi provare anche a dare una scossa al gruppo per motivarlo ad affrontare i migliori modi questa seconda parte di stagione in campionato. Perché, sai, magari ci sono delle partite che se non sei settato sulle giuste frequenze, se non hai... arrivo a dirti anche le motivazioni giuste, perché quei 15 punti ti pesano qua e fai fatica a riprenderti da questo punto di vista, posso anche comprendere i giocatori. Poi non giustifico certe performance, perché di Monza non è giustificabile mai nella vita. Però capisco che ti ritrovi a Napoli, che se batti il Napoli vai a meno sette, e poi ti ritrovi quasi in zona retrocessione, praticamente... Secondo me là ci può stare che un allenatore intervenga e tenti di dare una scossa buttandola sull'entusiasmo, sul sistema più offensivo, su nuove motivazioni, creare anche un po' di alchimia tra la squadra e il pubblico. E poi in generale ti dico, Lu, secondo me è un po' anche l'evoluzione naturale, perché se hai un certo tipo di condizione, Chiesa, Blauic, Di Maria, è tanta roba. Ma ti rigiro la domanda, perché noi sappiamo che comunque Allegri parla tanto di caratteristiche degli avversari quando fa le formazioni. Quindi la traduzione era, quindi ce l'aspettiamo domani ipoteticamente, non verrà confermata questa cosa col Nantes, cioè l'Europa League verrà utilizzata un po' più di turnover in questo momento preliminare contro una squadra sulla carta molto così, e invece in Serie A bisogna fare punti perché chissà che cosa succederà. Qual è oggi, secondo te, l'idea della Juve? Vale tutto ciò che hai appena detto. Chiaro che poi se immagino l'Europa League, l'impegno col Nantes, immagino che uno tenti di archiviare la qualificazione già all'andata, quindi cercare di schierare la miglior formazione possibile per poi andare in Francia, non ti dico fare turnover integrale, ma un po' più ragionato. Poi c'è anche da dire che vale quello che hai detto, cioè anche devi considerare le caratteristiche della Fiorentina, magari col tridente devi mettere in crisi i loro sistemi difensivi, perché è una squadra che gioca con un baricentro molto alto da tante occasioni, quindi magari puoi ripartire con le giuste verticalizzazioni in velocità con Di Maria, con lo stesso Vlaovic, con Chiesa, la profondità, ci sta tutto. Mi sembra che finalmente però possa essere una soluzione praticabile, perché tra la pubalgia di Vlaovic, Chiesa fuori nove mesi, di Maria che nella prima parte di stagione non ha mai giocato, Allegri non ha mai avuto a disposizione questa soluzione concretamente tra le mani. Che era la Juve virtuale che aveva in testa Allegri, tra virgolette almeno il reparto offensivo, il centrocampo sicuramente è modificato, è stato rivisto per un po' di esigenze, per un po' di esplosioni, per un po' di giocatori non proprio di livello, però sì, davanti la Juve era stata immaginata così anche in fase di campagna acquisti, immagino anche partendo l'anno scorso quando non rinnovi Di Bala per andare a prendere un giocatore che possa occupare quella zona di campo. Tra l'altro Juve-Fiorentina è un partito un po' particolare, perché nella Juve e nella Fiorentina in questo momento, se guardi le ultime cinque, loro ne hanno vinta una, ne hanno pareggiata una, ne hanno persa tre, ne abbiamo vinte due, ne abbiamo persa due, no, pareggiate due. No, è chiaro che la Fiorentina ha fin qui il campionato molto deludente, anche in relazione al fatto che nella passata stagione avesse fatto particolarmente bene a tal punto da centrare un posto in Europa, chiaro. Onestamente non mi aspettavo che loro facessero così male. La Juve è un'annata dove, secondo me, puoi fare quattro o cinque serie TV, giù quello che sta accadendo, è quello che ancora accadrà. Definitivo. Quindi, secondo me, è una sfida che, tra l'altro, quella dell'andata, io ero al Franchi, partita dove è stata la Juve, sembrava che la mettesse bene, con gol di Milik, poi fa gol di Caramò, e da là a Juve presa la pallate. E il rigore è parato da Perin. Perin va a parare un rigore, a Jovic, giusto? Sì. Poi il Perin fa una parata nel finale pazzesca, su Ambrabat. Meno male. Quindi, onestamente, poi sai, per Firenze, questa è la partita, è che si giochi in casa, è che si giochi fuori. Io mi accorgo ogni volta che vado al Franchi quanto questo match si era sentito dalla piazza locale e al tempo stesso, come vincerlo, o vince una o due partite, porti in preziosia un percorso. Magari tu puoi fare una stagione di M, ma se batti la Juve, il tifoso considera, va pesante. È il derby romano, la stessa cosa. Bravissimo. Ma, tra l'altro, vado a memoria, Fiorentina-Juve è la partita prima di PSG-Juve, tra l'altro. Sì, sì, sì. È la prima di Champions. Sì, sì, perché mi ricordo che faccio Firenze-Parigi, quindi, tra l'altro, è un momento duro, perché lì, davvero, la Juve, non so come abbia fatto a uscire con un punto dal Franchi, ricordo Allegri nel recupero che invita la calma Perina a non rilanciare in fretta, perché arrivavano da tutte le parti. E poi, qualche giorno dopo, c'è stata un'altra partita abbastanza incredibile, perché, onestamente, io ero anche là, ero a Parigi. Eh, io non c'ero. Anche tu, lui, ero. Ero convinto, lui. E poi eravamo insieme. Eravamo insieme, cosa vuoi? Eravamo insieme, che poi eravamo a pranzo. Io ero convinto, non so cosa dire, che anche lì, in un tempo, potesse finire 7-0. Ma poi faceva roba da PlayStation, con Neymar. Ma poi se la passava da solo, da una parte all'altra. Abbiamo questo... No, allora, sai perché ti dico? Allora, dato che eravamo lì, è francese prima Fiorentina, giovedì sono allo stadio anch'io, quindi... Eh, scrivimi. Eh, dopo, dai, facciamo qualcosa. Va bene, va bene. Ascolta, tra l'altro, se penso alla sfida tra Juventus e Fiorentina, nell'anno scorso ci sono due... Due costanti. Una è Vlaovic, che anche quest'anno non era partito titolare, ma partita dalla panchina anche l'anno scorso, quando aveva trovato la Fiorentina dopo il passaggio, non era partito negli undici. La seconda è Quadrado, che l'anno scorso è sempre stato il giocatore che subentrava e tutte le volte partite sporchissime, dall'autogol di Venuti al gol di Quadrado all'ultimo. Comunque sempre Quadrado lo zampino ce lo metteva. Invece questa volta tutti e due i titolari significa che la Fiorentina gioca diversa, che c'è bisogno, che siamo corti. Vlaovic è titolare perché ha smaltito finalmente, perché non si ha il Franchi come la legge. Ma sai, Vlaovic onestamente io l'ho visto bene bene a Salerno, ma togli i due gol e l'assist fortuito, perché la cicca la palla, poi la Kostic. Ho visto un giocatore fisicamente, quando lui tenta nel primo tempo che fa attacco, si libera e poi calcia nel secondo palo, vedo un giocatore che inizia a star bene. Quindi, d'altra parte, purtroppo, io l'ho detto più volte anche nei miei video, nei mesi scorsi, noi abbiamo fatto, abbiamo immagazzinato una cattiva abitudine, cioè prendere confidenza col fatto che Vlaovic non ci fosse più. Perché lui ne ha partita la giocata nel 2022 con la Juventus a fine ottobre a Lisbona, e poi noi non l'abbiamo più visto. Cioè lui salta le ultime sei del 2022 di fila con la Juve. Ragazzi, cioè Vlaovic è l'epicentro sulla carta realizzativa di questa squadra. È come togliere il miglior giocatore a qualunque squadra là davanti. Quindi, e ora, rivederlo così pimpante, mi lascia ben sperare, innanzitutto, che finalmente sta maledetta pubalgia stia scemando. E d'altra parte, lì, secondo me, la strategia intrapresa dalla Juventus, avallata dallo stesso giocatore a gennaio, è stata corretta. Cioè stare fermo praticamente per tutto gennaio. Perché la pubalgia passa solamente se stai fermo. Fine. Infatti anche il mondiale non ha giocato. Mondiale, lui entra al 66esimo la prima, la seconda non la gioca, la terza gioca e segna. È proprio i sintomi della pubalgia, no? Un giorno senti che puoi forzare, l'altro no. Quindi, no, la mia fotografia è che, che semplicemente poi, l'associo anche alla legge dell'ex, che sia Chiesa che Blauvi, ce la conoscono alla Juve, non l'hanno segnato. Quindi, chissà che oggi, no? Non arrivi. Speriamo. Sarebbe molto divertente, sarebbe divertente, anche perché poi dopo l'Ornotting, no, anzi, non l'Ornotting, il back on track di Federico Chiesa, no? Abbiamo visto diversi riscontri, anche quotidianamente, come vengono affrontati i discorsi dai medici, dai Ventus. E allora qua la domanda è, al di là della pubalgia dei Blauvi, al di là del ginocchio di Chiesa, al di là dei fastidieri di Maria, eh, ma Pogba? Cioè, quest'anno veramente ne stiamo avendo, ne stiamo vedendo ricottere crude, tutti gli anni diciamo peggio di così, e invece riusciamo sempre a far peggio. Pogba? Purtroppo, quella di Pogba, è una stagione maledetta, ma, maledetta sì, complice, la pessima strategia individuale intrapresa. Perché, se Pogba, quando si fa male negli States, gli va a operare, nei giorni successivi, come gli era stato consigliato, praticamente a tutto il mondo, a quest'ora Pogba, sarebbe giocando, probabilmente avrebbe giocato anche il Mondiale, e magari qualche spezzone, nel finale del 2022 con la Juventus. Invece è... Anche lì eravamo a Parigi, eh? Quando è arrivata la notizia. Ti ricordi? E io mi ricordo perfettamente, come Allegri fosse arrabbiato in conferenza. Ora davvero, mai visto così arrabbiato. Ma anche oggi, cioè, ieri, dato che è domenica, anche ieri, mi è sembrato stizzito la domanda di Fabiana. Cioè, su Pogba, proprio... Oh, Pogba non c'è, a un certo punto. Ho detto, si potizzano. No, è come dire, sì, sì, è come dire, basta chiedermelo, perché tanto io non so darmi una risposta. Poi è chiaro che, anche su Pogba, vedi, è la giostra, è la giostra del momento, perché lui, col Monza, era pronosticato che giocasse. era stato... Eh, si è scaldato, si è scaldato, eh, inizio al primo tempo. Per primo, per primo. Poi cosa succede? Che tu prendi l'imbarcata, opti per altre strategie, finisci di slot, e Pogba non entra più. Ma lui, in quella partita, e ti faccio uno spoiler, da quello che mi risulta, poi non è che io sia il depositario della verità, ma ogni tanto qualche chiacchiera la faccio, a me risultava che, prima di quella partita, lui stesse molto meglio di Vlaovic. Addirittura. Se dovesse giocare di più di Vlaovic, minutaggio alla mano, in quella partita. Poi, uno è entrato, lui neanche. Vlaovic, poi sta salendo, fortunatamente, ritorno a Veli Salerno. Pogba, oh, e oggi Allegri ha detto, magari lo arriveremo fra 20 giorni, ma era come dire, non lo so, cioè, si naviga davvero a vista. Spero solo, spero solo che, in questi mesi rimanenti, di questa stagione, Pogba riesca a togliersi tutti i problemi, per avere, nella prossima stagione, un avvio normale. Però, devo dire la verità, se ne andrò a cercare, con tutto il rispetto che ho per lui, per il suo interagio, ma, se tu opti per delle terapie conservative, che poi vanno, ulteriormente, a rendere più grave la situazione. No, ma anche perché, comunque l'operazione, vedi che dopo ci sono delle cose che ti porti dietro, anche con l'operazione, quindi, c'è maggior ragione se nemmeno ti operi, però un menisco, cioè, la cosa che fa strano a me, un menisco così tanto tempo, io, tutte le volte che ho visto dei menischi, nel mondo del calcio, sembrava essere... Eh, ma sai, perché poi tu vai a corricchiare, no? E magari un giorno senti che puoi spaccare il mondo, il giorno successivo, un po' come la pubalgia, il giorno successivo senti dei fastidi, attorno al ginocchio, forse magari qualcosa si gonfia, eh, sai, però, mi sembra che attualmente Pogba, sia di nuovo, nella giostra. Sembra proprio di sì. Allora, Rome, l'ultima volta che ci siamo visti, eravamo da Lello, e parlavamo di Napoli Juve. E ciò non ci fa onore, eh? No, anzi, anzi, parlavamo di Napoli Juve, che io ti dicevo, io mi sentivo di non perdere, e te mi hai detto, io ero peggio, perché mi sentivo di vincere. Sì, sì, sì. E' passato un mesetto, da Napoli Juve, ma dentro quel mese c'è stato, qualsiasi cosa. Oggi, il Romeo che pensava di vincere a Napoli, che pensiero ha evoluto, nell'arco di 30 giorni, o quelli che sono stati? No, probabilmente ho sopravvalutato la squadra. Anche se poi ti dico la verità, perché il risultato è netto, prendi quante pere, cinque, vai a casa, devi stare zitto. Ma se tu puoi vedere il primo tempo di quel match, è un primo tempo molto strano, dove la Juve viene colpita nelle uniche due occasioni a Napoli, la Juve fa un gol, c'entra una traversa, Meret fa un miracolo sul Ramani nello scadere, cioè, è una partita dove tutto è giato storto, il secondo tempo non si è entrato in campo, diciamo che ci sono state anche delle scelte, secondo me, sbagliate da parte di Allegri, chiesa a destra. Tipo Fagioli, anche chiesa a destra. Però è stata una partita molto strana, perché nel primo tempo magari ti gira l'episodio a favore, come è girato a loro, e stiamo a parlare di tutt'altro. Poi sicuramente, cioè, un inciso da fare doveroso. Secondo me l'hai mai vista dopo. Poi Napoli facciano un campionato a sé, gli altri giocano per il secondo posto, quindi onore al merito della formazione di Luciano Spalletti. Detto questo, io faccio fatica a trovare delle motivazioni per il campionato, perché ho la netta sensazione che tra Coppa Italia e Europa League, vedremo una squadra più famelica, perché hai degli obiettivi che puoi vedere. Sai che se vinci la Coppa Italia, vai automaticamente in Europa League. Sai che se vinci l'Europa League, vai automaticamente in Champions League. Che anche qui sono uscite delle dichiarazioni che l'atto Coppa Italia, non so se sono vere, confermate, se la Juve comunque vince, è meglio che ci vadano le altre, è giusto che ci vadano le altre. Però tu sai che da calciatore, hai quei due obiettivi, tu devi ragionare, se sei un calciatore, uno del gruppo squadra, devi ragionare sul lavoro quotidiano, su quello che puoi vedere tangibilmente. In campionato, tu non sai, perché magari ti restituiranno questi 15 punti, magari no, magari ne avrai altri penalità, non sai se quindi, mettiamo caso, che tu non vinca nella Coppa Italia, nell'Europa League, non sai se giocherai nella prossima Champions, non sai se giocherai nella prossima Europa League, non sai se giocherai nella prossima Conference, cioè non sai niente legato al campionato. Quindi per questo, io mi attendo che la Juventus in Coppa Italia e in Europa League, davvero scenda con feroce in campo, un po' come è successo in Juve Lazio. L'ultima domanda che ti faccio, è una domanda d'esperienza alla quale mi puoi rispondere, perché mi ricordo che il giorno dopo che acquistiamo Blauvice e Zaccaria, quindi il giorno dopo, la chiusura del mercato era il primo di febbraio del 2022, quindi un anno fa, e mi dici, guarda che la Juve si è già mossa, ha cambiato Zagnolo, sta programmando, e quindi vuol dire che tutti gli anni, arrivati comunque a questo punto, mi dicevi, guarda che è già febbraio, si ragiona per la stagione successiva. Quest'anno, con questi disturbi, ti arrivano dei feedback differenti, anche solo l'atto rinnovi, cioè, guarda, la risposta che ho sempre dalle mie fonti è tutto fermo. Eh, esatto, è quello che volevo. Bravo. Poi dobbiamo anche, secondo me, fare un distinguo, nel senso, oggi la Juve non può parlare con Rabiot, cosa puoi proporre a Rabiot? Cosa gli dice Rabiot? Non sai in quale, cioè non sai niente. Non puoi parlare, ammesso che tu voglia parlare con Alexandre Quadrado, che per me sono due giocatori che andano via a zero, a meno che non scattino per Alexandro cose strane a livello di contratto. Però, ci sono delle cose che puoi portare avanti. I rinnovi, quelli che hai fatto, tipo Barbieri, Mulazzi, quello che arriverà di Del Huyzen. Perché? Perché questi, a prescindere da ciò che accadrà, sono giocatori di cui tu avrai bisogno per il tuo progetto. Quindi, se non è sulla linea verde, la Juve può muoversi tranquillamente a programmare. sugli altri, ci aggiungo Di Maria, tu non puoi muoverti. Ma anche, ti arrivo a dire, Danilo, che è un rinnovo che secondo me si farà. Che è in stand-by, però non è immediato. Si è bloccato Rome. Va bene, quando riparte. Ok, ti muovi ogni tanto. No, no, scusa, perché è partito, perché è partito, lui la chiamo una chiamata e sono collegato col 3G. Vai tra, vai tra. Dove riparto, Lu? No, no, niente, dicevi che Danilo, che è un rinnovo che secondo te si farà? Dove è questo rinnovo che si farà? Oggi non puoi fare determinate mosse, determinati step. No, ma infatti, guarda, la domanda te la facevo non tanto perché ero curioso di sapere i nomi, ma capire se le fonti stesse con cui puoi parli erano movimentate, tranquille, quindi loro in primi si dicono che. Va bene, Rome, ti lascio, dato che hai anche le chiamate in sottofondo che è Allegri che ti dà la formazione ufficiale. E ci vediamo giovedì. Ci vediamo giovedì. Ci vediamo giovedì, Lu. Grazie per l'invito, un saluto a tua community e ci vediamo giovedì. Un abbraccio, buona domenica. Vedi che mi sono ricordato.